Ora io inviterei sul palco il nostro Gianfranco Butinar. Ibrahimo mi centrerebbe a scuola così. Sono molto contento di essere qui, ho portato tanti amici. C'è con me tanta gente e c'è Antonio Cassano che è mio amico. Sicuramente sono contento perché alla fine io voglio bene Ibrahimović come un cane. Quindi non sono qui per fare polemica. La Roma è tornato Spalletti. Buonasera a tutti da Bruno Pizzul, moltissime le autorità e la tribuna stampa. Giochiamo con Toldo in porta a destra a Cannavaro, Iuliano e Valdini difesa. A centrocampo Albertini, Fiore, Conte e Zambrotta, Francesco Totti e Pippo in zaghi di punta. Claudio Ranieri mi hanno richiesto qui dei tifosi in tribuna stampa. Claudio Ranieri è primo con il Leicester in Premier League, lo sapete, primo in classifica. Non si sa come. Claudio Ranieri, buongiorno. Ma è chiaro che naturalmente voglio fare un augurio a questi ragazzi che sono bravi, ci mettono tanto entusiasmo, stanno facendo bene. Massimo Moratti, un attimo. Un attimo, vogliono parlare tutti, non è colpa mia, non gestisco io. C'è anche Fabio Capello, l'ultimo allenatore che ha vinto lo scudetto a Roma. Fabio Capello, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, buon tutto. Fabio. Innanzitutto volevo ringraziare la città di Roma. Un attimo, vogliono, è veramente un momento difficile perché tutti vogliono parlare. Eccolo qui Francesco Totti, ecco Francesco. Penso che ha detto tutto al mese. Penso che sono onorato di essere qui con voi, perciò è nelle nostre cordi. suoniamo la chitarra. Se ci riusciamo, ben venga, altrimenti... Oh! Altrimenti life is now. Ciao! Ciao ragazzi, buona fortuna!